benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 30 gennaio 2017 queste fanno tv ben ritrovati cari telespettatori buon inizio settimana ci stiamo avvicinando alla fine del mese ormai questi sono giorni giorni gli ultimi giorni di questo gennaio molto freddo tra l'altro se state per uscire di casa e ci seguite alle 7 30 del mattino in diretta è molto freddo e attenzione alle gelate il santo del giorno cominciamo dal calendario vediamolo subito il santo di oggi anzi la santa santa giacinta marescotti il sole sorto alle 7 27 tramonterà le 17 15 il cielo oggi sarà poco nuvoloso con graduale aumento della copertura dalla serata ad iniziare dal nord le temperature sono in diminuzione i valori minimi mentre il lieve aumento sono i valori massimi per la giornata di domani martedì 31 di gennaio avremo un cielo prevalentemente nuvoloso con soprattutto nella mattinata con copertura imparziale di radamento invece dal pomeriggio le temperature sono in lieve aumento flussi occidentali in quota potranno determinare a metà della settimana deboli condizioni di instabilità anche sulla nostra regione subito i giornali allora cominciamo dal Corriere Adriatico la prima pagina l'edizione di pesero via alla scuola prova di sisma software valuterà la sicurezza anche il tetto giardino per via la marmora i progettisti svelano le novità siamo a pesero poi a centro pagina lo sport una domenica nera anche per fano e vispesero hanno perso tutte quante la vl sconfitta alla foto finish basket bianco rosso in caduta libera anche contro torino arriva un boccone amaro le pagine interne subito quella di fano con la la possibile crisi di giunta che però chiaramente dopo un incontro chiarificatore non ci sarà non è nemmeno nell'aria però c'è stata questo c'è stato questo necessario chiarimento soprattutto per questo emendamento dopo quest'emendamento presentato dal partito democratico sul bilancio chiediamo concertazione tra il sindaco e l'esecutivo bacchiocchi e l'emendamento avvertenza sull'ingresso di bilancioni nello staff di serie dunque nessuna crisi di giunta ma solo un avvertimento affinché tra sindaco e partiti che lo sostengono e sostengono il suo esecutivo ci sia più concertazione alberto bacchiocchi che è il capogruppo del partito democratico giustifica così l'emendamento presentato al bilancio che trasferisce una somma di denaro dal gabinetto del sindaco al fondo anticrisi sotto invece il consiglio comunale sarà ci sarà oggi e domani in doppia seduta il primo di questo 2017 c'è il bilancio preventivo tra i punti anche in discussione le telecamere da posizionare in città il potenziamento dell'ospedale santa croce palazzo malatestiano tesoro da scoprire il così vogliamo valorizzare l'intera area il sottosuolo potrebbe celare tesori architettonici e l'assessore marchegiani descrive la strategia serve una ricerca con il georadar sul campo poi ci sarà la ricostruzione 3d dell'antica dimora addio invece allo psicologo renzo canestrari per quasi mezzo secolo ha rappresentato la psicologia italiana era nato a piaggio aveva 92 anni ed è morto a bologna il professor canestrari uno dei principali pionieri della rinascita della psicologia italiana nel secolo nel secondo dopo guerra ancora dal corriere adriatico la pagina della valle del cesano per i volontari fa di bruno siamo a mondolfo sono le scuole le vere priorità sono stati consegnati a pieve torina 11 mila euro si parla anche del servizio di sicurezza fuori dalla fermi e qui praticamente si parla di questi volontari della protezione civile che non è che un'associazione che ha poco più di un anno di vita ma che già sta facendo e lo ha fatto nel 2016 tante tante cose tanti progetti a livello locale e soprattutto ha aiutato le popolazioni colpite dal terremoto nel sud delle marche e quindi stanno questo è un po un articolo che fa il punto della situazione oggi in duomo invece ci sarà l'ultimo saluto a jacopo monaldi il giovane deceduto sabato 21 gennaio al bivio tra la litoranea e la cesanense amarotta dopo essersi scontrato con la sua moto con un'auto sarà don giuseppe cavoli con il vescovo armando trasarti il vescovo di fano a celebrare oggi l'ultimo saluto appunto a questo ventiquattrenne vittima di questo terribile incidente la cronaca di senigallia l'attac è rotta la paziente costretta in ambulanza ad andare all'ospedale di jesi era in con un'emorragia cerebrale è una giovane mamma di 37 anni di senigallia per fortuna questo questo versamento ematico riscontrato nella nella testa di questa donna era di proporzioni limitate quindi diciamo la corso in ambulanza jesi non ha compromesso il suo quadro clinico però certamente con un'attac rotta all'ospedale di senigallia poi accadono anche fatti come questi per fortuna in questo caso è andata bene questa giovane mamma aveva una forte emicrania ora è ricoverata in neurologia sotto invece è ancora una notizia di cronaca da senigallia un sabato sera che finisce tra insulti tra gli insulti per una coppia che poco prima della mezzanotte si era messa a litigare mentre dal lungomare stava raggiungendo la statale all'altezza del ponte rosso una burrascosa passeggiata interrotta dall'arrivo di una volante della polizia andiamo a sasso corvaro dove è stato fermato l'assassino geloso che ha ucciso con 23 coltellate il compagno dell'ex moglie sebastiano di masi aveva già minacciato la sua ex per la relazione con la vittima alessandro vitaletti è stato catturato ieri pomeriggio questo uomo da tutti conosciuto come nello oppure il calabrese è un artigiano edile di 55 anni che era ricercato da sabato sera per l'omicidio del professore alessandro vitaletti di 48 anni prima dell'agguato quest'uomo voleva entrare in casa della donna l'avvocato difensore dice ci sono però profili di legittima difesa e questo è il presunto assassino nello l'artigiano edile emigrato per il terremoto del 1997 e adesso andiamo sulla pagina di urbino del corriere adriatico la fano urbino da salvare a un volano per il turismo anche il consiglio comunale unanime sul recupero della ferrovia come attrattiva intanto è stata sospesa la vendita da parte della rete ai privati in attesa che di un incontro con la regione per colli al metauro invece è insomma è un avvio tutto in salita in questo articolo ci sono evidenziati alcuni dei problemi logistici che stanno emergendo dalla fusione di questi tre paesi che si sono fusi l'anno scorso e questo atto praticamente dal primo di gennaio questi tre paesi sono diventati un unico paese che appunto si chiama Colli al Metauro difficile capire scrive anche Giungi sul giornale di questa mattina difficile capire se la candidatura dell'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi a primo cittadino di Colli al Metauro sia una mossa strategica del centro-destra o il classico sassolino gettato nello stagno e c'è poi tutto l'articolo che evidenzia anche i punti critici e le problematiche che stanno emergendo da inizio anno il resto del carnino invece a centro pagina guardate la fotografia è per il Fiume Foglia Marche Multiservizi in due anni prepara 18 milioni di euro di lavori per non scaricare più le fogne nel fiume vedete qua il presidente di Marche Multiservizi TV Roli poi una notizia che vedremo tra un istante troppi 119 candidati all'esame siamo a Urbino un docente che adesso finisce nella bufera a psicologia nessuno voleva rinviare il suo esame tutti lo pregavano di non farlo ritornare così cosa ha fatto? Non ha interrogato nessuno l'esame è andato secondo con un voto politico a chi ha frequentato ha preso il libretto ha guardato ha fatto una media e gli ha dato il voto perfetto Irina la casa popolare resta un miraggio una madre sola con tre figli scavalcata dalla figlia del dottore a Monteporzio parliamo di assegnazioni di case popolari ripartiamo da qui allora dalle case popolari ecco qua la notizia sul Carlino di Pesaro casa popolare alla figlia del dottore e Irina che invece è sola con tre figli è stata esclusa Monteporzio cittadino denuncia lo strano caso delle graduatorie un'altra volta l'alloggio fu dato all'erede di un imprenditore edile guadagna 800 euro questa mamma ne paga 400 d'affitto sola con tre figli ma arriva purtroppo sempre seconda e quindi niente casa niente alloggio in questo caso è stata data alla figlia del dottore il dottore si ammalò ambarabà cicci cocco meglio ridere presto potrai giocare a Pesaropoli questa è l'altra notizia invece che c'è sul resto del Carlino iniziativa di raccolta prenotazioni per un nuovo gioco da tavolo così con questo gioco si potrà comprare il teatro Rossini oppure diventare proprietario di Rocca Costanza oppure aprire un centro benessere a Monte Granaro insomma tutto questo si potrà fare con questo gioco in scatola e allora la cronaca invece aggredito in casa dal ladro una vicenda dell'altra sera alle 19.15 in via dei Tigli in zona Campanara il proprietario di una casa un pensionato di 73 anni che è tornato a casa e si è ritrovato con i ladri dentro Urbino allora andiamo a vedere questa notizia del professore che ha promosso praticamente tutti il prof promuove senza esame il voto con la media del libretto troppi studenti all'appello niente interrogazione frequentatori e lui dice e si giustifica dovevo valutare 120 ragazzi ognuno mi pregava di non farlo tornare un altro giorno e quindi ho dovuto prendere una decisione che per lui è stata necessaria un caso eccezionale che non succederà più ma i voti sono validissimi chi è il professore eccolo qua lo vedete nel cerchio eccolo qua si chiama Emanuele Russo in una foto di qualche anno fa tratta dal sito web dell'università di Urbino ancora siamo in chiusura l'ultima pagina andiamo a vedere quella che riguarda i 14 progetti per salvare il fiume Foglia ed evitare la maxi multa europea, marche multiservizi appalti per 10 milioni di euro nei prossimi mesi interventi anche nel centro storico e pantano per allacciare gli scarichi al depuratore questa è la notizia pagina 2 del resto del Carlino adesso invece l'ultima pagina quella di Fano crisi di maggioranza seri il sindaco Alvarco dopo l'incontro fiume PD e sinistra non ritirano l'emendamento le forze alleate valuteranno il da farsi dopo l'intervento del sindaco in consiglio c'è ancora tensione Severi di una città interroga la città non decolla con pochi ben pensanti questo è l'affondo di Riccardo Severi Marina dei Cesari a caccia di clienti tedeschi alla fiera di Düsseldorf all'appuntamento dedicato agli appassionati di Nautico il portofanese ha raccolto 200 richieste di ormeggio si vuole offrire al cliente una serie di esperienze di viaggio nel territorio e poi dicevamo oggi pomeriggio in Duomo a Fano l'addio a Jacopo oggi pomeriggio alle ore 15 seguiremo naturalmente anche questa notizia e ve ne renderemo conto nell'appuntamento delle 20 e 30 di questa sera nel telegiornale Occhio alla Notizia a voi tutti gli auguri di una buona giornata Grazie a tutti i nostri spettatori